Vlogmas giorno 9. Ma ci stai giocando da stamattina? Ma no, allora ti spiego perché tipo questo tipo è il quadrante normale con fossil, carino sì, però ho bisogno di più personalità per me. Uno è questo che mi fa molto ridere. Ti faccio vedere. Guarda che c'è, crescono i baffi. Carino. E poi si è tipo, lo clicco, li tolgo, che mi fa molto ridere. Ma ce n'è un altro, 188 passi. In troppi non faccio. L'altro però guarda che carino che è questo, è molto tenero. Guarda chiude gli occhi, li apre. Ma è un robottino? Sì. Google mi racconti una barzelletta? Penso di essere una persona con i piedi per terra, almeno grazie alla forza di gravità. Google mi racconti un'altra barzelletta? Erano le 5 della sera, le 5 della sera, le 5 della sera. Sul orologio fermo. Google cosa possiamo fare oggi? Opta per una domenica. Facciamo quello che ci dice, è vero? Abbiamo come proposta creare il nostro orto in casa. Abbiamo già fatto un albero ieri. Grazie, come saremmo fatto. Rimettervi in moto. Con una corsetta. Ho già fatto 188 passi, mi sono rimesso in moto. Organizzare un party. Sai cosa potremmo fare? Chiedere tipo alla mia famiglia di vederci. Magari possiamo organizzare una cena. Più che un party. Quindi lo organizzeranno loro, perfetto. Rinnovare il quarta roba. Pane per i miei denti questa. Potremmo andare a cercare il maglione di Natale. Ma è tipo assurdo. Io e lui stiamo andando a Porta di Roma per prendere il maglione. Abbiamo deciso però di fare una sfida. La sfida è la seguente. prenderemo lo stesso maglione, in modo che abbiamo una base identica. E a quel punto io dovrò fare il maglione a lui e lui dovrà fare il maglione a me. Questo sa cosa vuol dire? Io sarò ridicolo. Sembrerai un cassonetto, una discarica sembrerai. Il Natale è di Michael Bublé e di Mariah Carey. Non è di nessun altro. Spedizione terminata, siamo tornati a casa. Abbiamo preso da H&M due maglioni. C'era solamente panna perché non c'avevano tipo né rosso né verde. Quindi dovremmo comunque avere anche una base, un canovaccio un pochino più arduo. Ci sta però no? Così almeno i colori che vanno fuori. No scuola se non lo dici tu io so dal tonico quindi è a posto. Questo sarà il tuo che mi prendo io. Ok. Scusa te lo buttavo per terra. E quello è il mio che ti prendi tu. Bene. In bocca al lupo. Lu siccome abbiamo fatto tipo 200.000 cose in questi giorni possiamo non fare niente oggi? Che prego. Ma proprio niente? Io non voglio fare niente. Netflix. Netflix. Netflix tipo il flick all'indietro quello. Netflix Amazon Pride. Alla fine con Lu abbiamo deciso di vederci...com'è che si chiama? The Princess Witch. Aspetta che così non capisci un pochino questo baby com'è. Sei curioso? Mhm. Come sei? Anche io. Molto. Molto curioso e molto natalizio. Soprattutto. Lu. Ehi. Dobbiamo andare a cena dai miei fratelli. Ehi. Dai. Ho sonno. Benvenuti in questo episodio di... Ma che c***o sto a dire. Sono tutti di là e noi stiamo preparando la cena. Siamo scesi per prendere due stronzate e alla fine è finita così. Me ne siamo tornati col bottino e non sanno cosa stiamo preparando. Ma benvenuti nel primo episodio di... In cucina con i super chillabross. Qui abbiamo dei bellissimi cubetti di orata freschissima. Mamma mia. Voi non potete sentire l'odore ma ragazzi credetemi è il mare puro. Uppicino. Uppicino l'angoppa. Proverò il mio classico piatto perché noi siamo famosi per le tartare e proverò a fare una tartare cioè proverò. Già so che viene. Abbiamo ben pensato di prendere due chili e mezzo di tonno ruspante. Che vuoi? Voglio non tentare di storcerci informazioni sul cibo, sui piatti. Che vuoi? Che ti serve? Fai a vedere la partita di là. La sì mi serve. Fuori! Ma scusa adesso se tu importi quei dati ci sanno pure i video di adesso. Non li prendo. Eh chi me lo dice? Ci sanno tutti gli ingredienti là dentro. È vero. Se voi vuoi essere complice degli ingredienti e fare il vago proveremo a fare questo esperimento. Fuori! Nonna che succede? Fuori! Ricordate sempre che la tartare si taglia a coltello. Non fate frullati o roba strana. Qua ci sono tutte le dische e le ossa del pesce. Poi andremo a sfumare. Per ricavare un succhetto da inserire. Noi non dovevamo fare gli stanchi. Dovevamo fare i cuochi perché veramente io non so cucinare. Come al solito uno cerca di fare una cosa caruccia, una cosa così invisibile. Una sorpresa. Se alla fine sbuca fuori i chili. Rovina tutte le sorprese. No. Non potevo bere l'acqua del cesso. Hai visto tutto! Io vado avanti e incastrato qui davanti a un coso c'è sto polipo. E poi sei riasci qua, apro e c'è capito, non lo so, una sacher. Fatemi sbirciare un pochino. Ormai sbirciare vuoi essere complice. Voglio essere complice. Stavamo per prendere i gamberi però sappiamo che lui è allergico quindi sarebbe morto. Qui abbiamo una tartare fatta da Gabriele, servite i piatti. Una pasta. E questa l'ho mangiata calda calda. Una pasta a cura di Gianluigi. Calda calda cosa che ci avete appena servito le tartare? Allora fammi questo dopo. Servizio pessimo. Mi sono dimenticato di mettere la cipolla rossa che ci stava. Ah che schifo! Servizio pessimo pare che mi hanno pagato. Gabriele posso? Gabriele ci puoi descrivere il piatto? Il piatto è di carta e sono quelli che usano Enrico perché schizzi roso quindi sono puliti. Sono i suoi privati. E ora che hai fatto questa battuta simpatica, cretino! Con i piatti mi danno del pazzo, intanto come scrocca i miei piatti. Tonno avocado, menta che non si sente perché in proporzione è buissima, slime e mandorle. Servito su una base di carasau. So che la tartare è super indicato. Cos'è? Una calamarata con un tachino battuto di polipo e cubetti di orata sfidettata. E quello lì è il poster di un film con fatto che mia nonna si tiene sopra il televisore. Che imbarazzo per me vederlo ragazzi. Cioè ma perché? Ma non mi dici che c'è, che c'è, che c'è, che c'è, che c'è, che c'è. Tu dove stai? Ma dove stai? Dove stai? Ti piace un regalo e te ne butteste? Io mi sono stancato di aspettare ragazzi, alla mia. Amore? Ma non è giusto, ma perché Luigi ne ha così tanto? Cioè tu non hai reso piccante questa pasta perché lui non mangia piccante. Noi non abbiamo fatto la pasta gigante. Ma che ci sei fidanzato te? Tutto è stato fatto in funzione di Luigi. Ma che p***e. Ti sono prego di te Guglielmo. Infatti gli scampi ce li siamo a California. Questa pasta fa schifo per colpa tua. Allora la morte di questa pasta è aggiungere questo olio che hanno fatto con...cos'è, com'è che si chiama? Caro... Io California. È un peperoncino che teoricamente... È di capsicina. Che cos'è la capsicina? È un componente, è il componente della piccantezza. Caccola che non ti riesci a mettere a fuoco manco...bello che la può mettere a fuoco, cioè il componente della piccantezza. Comunque sei una paracula tu. Buonissimo, della morte sua. E non ti fa pesare il fatto che non c'è il gambero. Ho un'impressione. Allora tu non mi devi parlare. Tu ora... Non ti guardare ad attaccare Luigi. Il mio ragazzo. Scusate cracco, manca in questa tartare il morso. Perché non... Del... Del... Se poi ti lascio a mordere... Se poi ti lascio a mordere dal musgo testa di c***a. Guarda quanto è grosso il pezzo. Nonna, perché non dobbiamo... Nonna, ma scusa, ma perché non bisogna urlare? Sta molto male. Chi? Il signore accanto. Voglielmo. Ti muovo sempre io. Penso non le metti. E c'era la testa proprio... Lei è convinta che ci sia una testa lì qua dietro. Cioè se io alzo questo quadro c'è una testa, non c'è uno, c'è una testa. Non ha il morso eh, però io devo mettere la preta. Ma non ci piace io, ci piace io. Guglielmo, sei il trash del web. Sei diventato, sei diventato, sei diventato... Sei diventato il trash del web. Questo canale è diventato il trash del web. E' vero che è bene. Posso dirti una cosa? Manca il morso. Io ho mischiato col coltello, per sbaglio. La cipolla... Ma la pasta non è piaciuta, c***a. La cipolla... La cipolla... La cipolla l'ha spruzita. Elogiato. No, tu sono mia c***a. E' bellissima. Adesso fai un commento senza fare i compiti. Dai oh, regà, la tartare. La tartare è pazzesca. La tartare è bellissima. Tu sei totalmente distrutto, ma che tu che hai fatto? Mi sono fatto due ore di tartare. Ecco che ha fatto, guarda che te lo so avvicino. Perché stai ridendo? Ma perché stai ridendo? Ma perché stai ridendo? Ma perché stai ridendo? Però non ti senti. Mio fratello ha chiesto quali erano le parolacce usate. Negli anni 40-50. Credio. Ma sono tutti quanti distrutti. Mamma, ma ragazzi. Basta, Diego, ti pego, c'è una testa. Mi sono trasformato. Non ho tanto bevuto. Sono sempre io. Ho di riuscire da qui. Ho di riuscire da questo corpo. Questo è Mallorca. Stai salando l'ultimo giro da l'entrano. No, non ho mai. Ma che ubriachi siete. No. Questa non te lo faccio dire. No, non è giusto. No, ma vai. Non si piace che se vuoi. Eh io sono in imbarazzo. Questa sedia non mi sa quanto. E' un tarlo. E' un tarlone. E' lei? Sarei contento se venissero sopra e poi andate io... Ah aspetta, c'è una testa qua, una testa sotto e tutto un contomiglio di testa. E' tutta una testa. Nonna ma tu quando dici che c'è una testa? C'è una persona o una testa? Io non capisco se c'è una testa appiccicata al muro. Stragliato a perno della cucina. Si! Nonno, ma che stai facendo? Nonno, ma che stai facendo? Ah te lo ricordi? Basta! Basta! E' lui! E' me! Te lo ricordo adesso perché tu... E io che... Te l'ho preso? Te lo ricordi? Te lo ricordi? Ma Enrico l'abbiamo perso! Ma scusa ma il motivo? Perché era caduto sulla nave? Ma Enrico l'abbiamo perso! Era caduto sulla nave? E' la giacca stella! Era caduto sulla nave? Sì sì sì! Enrico! Nonno, ma che stai facendo? Non lo sopporto più Enrico! Non lo sopporto più Enrico! Non lo sopporto più Enrico! E lui mi dispiace! No però Enrico, farlo per la nonna! Non lo sopporto più Enrico! Non lo sopporto più Enrico! Non lo sopporto più Enrico! Il tecchino non c'ha un morso! Meno male! L'hai sbattata! Meno male! Pensa che ci avessi avuto un morso! Domenchi! Forse non lo ricordo! E' un ucci da un bambino! Ma aspetta posso capire questa storia? Ma non lo sopporto più Enrico! Ma che è? Questa, questa tattata è ripida! E' ripida! E' liquida! E' liquida! PER GRITO! Ma non è ricco qua! Ma non è ricco qua! Ma cosa è ricco? No no! Ma per me non c'era... Ma quello non c'era... Ma che cosa è insieme? Ma poi guarda, quanto sta sudando! Ma che cazzo va? Ma che cazzo va? Siccome era un po' triste mi sono comprato queste bacchette cinesi da Tiger Ono, il castiglioni e il lago Lo accompagnatolo in stazione adesso dopo la mangiata, quindi salirai a Milano, carico come un uovo, mentre io tornerò a casa carico di tristezza e di isolazione e con questa nota così allegra chiudiamo questo vlog, ci vediamo domani con un altro vlog come sale 14 ciao